Eccole, essere là, le chiamo. Fragolina e Francesca del futuro! Ah, ma voi chi siete? Quel gatto arancione? Sei simile a me? Perché noi siamo... Cioè, sono tuo figlio nel futuro. Cosa? Io avrò un figlio? E con chi, scusa? Con Gatto Gigante. Allora ci sposeremo. Sì, ma perché tu ora sei solo fidanzata con lui? Cioè, fidanzata? No, lui si è dichiarato a me. Poi però siamo partiti per il mare, quindi io non ho più saputo niente di lui. Oh, sposerò con lui. Non avresti dovuto spoilerare così tanto, se no cambierai qualcosa nel futuro che ci renderà la vita impossibile, imprevedibile e... Niente. Vabbè, dai, proviamoci. Ora spostiamo lei svenuta e Francesca del futuro. Ah, è già andata. Bene, io ti stavo insegnando lei i poteri. Bene, io esserci. Cominciarete, Fragolina. Allora, prova a saltare. Poi se... Cioè, a volare. Qui. Se poi cadi o schiocco le dita e tu torni su, qua. Ok. Avevo paura o no, non mi ricordo. Sì, avevi paura. Ma io devo volare o devo cadere? Eh, no, mi ricordo che eri riuscita al primo tentativo. Ah, ok. Ah, wow. Sono riuscita a volare. Grazie a te, Cotahu. Ma non è vero che sono stata io. No, io trovo che mi ha dato più supporto lui. No, me l'ho dato io. No, essere stato io. No, io... E un altro ricordo rovinato. Dai, ragazzi, basta. Andiamo alla macchina del tempo e proviamo a trovare... No, basta. Io starei rovinando i vostri ricordi. Cambierà qualcosa nel futuro. E come ha detto Sally, la nostra vita diventerà brutta. Se cambiamo qualcosa, magari... Delle prove, gli umani, quando torneremo, capiranno che ci siamo. No, stai esagerando. E comunque dobbiamo tornare nel nostro tempo. Promettere che torniamo nel nostro tempo e non andiamo in un altro passato? Ok. Dai, andare. Dopo. E cosa è arrivati? Usciamo. Ah, finalmente essere nella nostra era. Perché lo dici così, Jenny? Già. Perché siamo nella nostra era. Allora, chi sono quelli? Chi? Chi? Ragazzi, mi sento male. Devo partorire. Oh, caspita. Bisogna chiamare... Allora, ragazzi, vado a prendere l'asciugamano. Che succede? Sto per partorire. Prendo l'acqua calda. Tu intanto massaggioli la pancia. Ma dove è il gatto gigante? Quando serve? Lui è andato a chiamare tutti i nostri parenti per venire. Oh, ok. Coricati. Ok. Qui è quando sto per partorire loro. Oh, quindi è stata così la nostra nascita. Wow, è stato bello rivederla. Però comunque, ma dovevamo tornare nella nostra era. Complimenti, Francesca. Cioè, fragolina, mi hai mentito. Ma io volevo tornare lì. Ragazzi, l'hai detto a te che basta pensare e vai nell'era. Chi è che stavo pensando al parto? Scusate, ero io. Perché stavo pensando a Sara e Rosi che sono nate via. E poi, poi è stato che si fidanzeranno, si sposeranno e faranno figli. E dovranno essere incinta. Però loro non sono ancora stati. E qua non è stato nessuno tranne Francesca. Quindi siamo andati nella sua era. Bene, ora pensiamo solo ed esclusivamente al giorno di oggi. Ovvero tra molti, molti mesi. Perché sono tornati in via di cinque mesi. Dai, tutta la macchina del tempo. Dai, almeno non abbiamo rotto questo ricordo. Ah, bravo, Francesca, stai andando benissimo. Quelli chi sono? Quelli di chi? Preso si sta per girare, Francesca. Rovineremo il ricordo. Tutta la macchina del tempo. È vero, perché poi magari partisce male e noi ci verranno dei problemi. Basta parlare. Vieni. Vieni. Dopo. Finalmente siamo nella nostra era. Credo, vado a vedere la data. Ah, sì, è giusta. Non limitarti al giorno. Guarda anche l'ora. Perché potrebbe essere che siamo andati anche indietro di qualche ora. Ah, sì, è essere giusta. Ah, finalmente questa disavventura è finita. Ma perché la chiami disavventura? Può anche essere solo un'avventura. A me è piaciuto rivedere i nostri ricordi. Ah, non mi ricordavo il parto, cioè. Anche se tanti ricordi noi non c'eravamo. Cioè, c'era tu dove raccontavi il tuo matrimonio aspettativo e Francesca c'era. Quando parto i rivi, Francesca c'era, vabbè, c'era anche Nadia. E il cane. E poi quando gli insegnavi il potere c'eravate solo tu e lei. Eh, lo so, ma voi siete arrivati molti mesi dopo. Anche Nadia che è fatta la prima. Cioè, Francesca è arrivata. Io un mese dopo sono arrivata. Sì, dai. Comunque è ora di pranzo. Dai, tutti dentro. Dici nei commenti cosa ne pensi di questa avventura? Barra disavventura. E crisi. Buon pranzo.